La gente è impaurita perché vede che il determinismo che ha caratterizzato tutti i decenni precedenti non ha fondamento, si può andare benissimo indietro, invece tutto ha congiurato per far capire che ogni giorno in più si stava meglio, quindi sono scoraggiati, sono spaesati, però è successo anche in altre epoche, anche per gli italiani oltre che per gli altri, penso al dopoguerra eravamo ridotti malissimo, però c'era una speranza e comunque non per buttarla in politica, la politica indicava una strada, contraddittoria, discontro, tutto quello volete, però indicava una strada, nei momenti di grande difficoltà e di grande paura rinascono i movimenti collettivi, noi veniamo a un ventennio che ci ha spinti all'individualismo perché sia il mito del consumismo che della finanza ci ha portato a pensare che noi potevamo prescindere da molte storie, i movimenti collettivi sono movimenti che nascono proprio per fugare la paura, i movimenti collettivi possono essere benefici o distruttivi e questo dipende appunto da quale governance avremo?